L'atto costitutivo della società è un atto plurilaterale aperto ed è un contratto oneroso, infatti i soggetti devono conferire beni o servizi e il conferimento di questi fa sì che i soggetti acquistano lo status di socio e i conferimenti possono essere di qualsiasi tipo e di diverso a montare, sempre entro i limiti regali stabiliti per le singole categorie di società, ad esempio vedremo che per le società per azioni non è possibile conferire ad esempio prestazioni d'opera o servizio. Gli elementi che distinguono il contratto della società dagli altri tipi di contratto sono l'elemento oggettivo caratterizzato dai conferimenti, l'elemento soggettivo, quindi lo scopo mezzo, ossia l'esercizio in comune di un'attività economica e lo scopo lucrativo, quindi lo scopo fine, che è appunto la produzione di un utile, sia soggettivo che oggettivo. La classificazione delle società Inderoga il principio dell'autonomia contrattuale in base al quale i privati possono creare un contratto atipico, il legislatore ha previsto che l'autonomia privata non può creare una società diversa rispetto a quelle già previste dal Codice Civile e che i privati non possono comunque personalizzare la disciplina della società. Però comunque è consentita l'introduzione di clausole atipiche che vanno ad arricchire la disciplina, ma queste comunque non devono contrastare il tipo legale scelto. Oltre alle clausole atipiche abbiamo anche i patti parasociali che sono accordi stipulati tra i soci per regolare i comportamenti tra di essi. Il legislatore classifica le società in base ai criteri di distinzione, infatti in base allo scopo perseguito abbiamo le società lucrative e le società mutualistiche. Le prime sono società che perseguono la realizzazione di un utile, mentre le seconde sono le società cooperative e le società mutual assicuratrici e queste offrono ai soci beni e servizi o opportunità di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. In base alla natura dell'attività esercitata distinguiamo tra attività commerciale e attività non commerciale. L'attività commerciale può essere posta in essere tramite qualsiasi tipo di società, mentre l'attività non commerciale può essere posta in essere secondo solo la società semplice. Infine abbiamo la distinzione tra società di persone e società di capitali. La prima, la società di persone, è una società che pone prevalenza alla persona del socio, che gode di responsabilità illimitata e tra le società di persone abbiamo la società in accomantità semplice, la società semplice e la società in nome collettivo, mentre tra le società di capitali sono quelle società che danno più rilevanza al capitale sociale, quindi dall'aspetto patrimoniale rispetto che l'aspetto personale della persona del socio, e sono quindi la società per azioni, la società in responsabilità limitata e la società in accomantità per azioni. Il socio della società di capitali gode di responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. La società semplice è la forma più elementare di organizzazione societaria prevista per svolgere un'attività.